Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Parliamo questa mattina di un argomento un pochino particolare, che è quella della prescrizione, della realizzazione e poi anche dell'uso dell'occhiale in età pediatrica. L'occhiale in età pediatrica, o meglio sobra dire il bambino e l'occhiale in età pediatrica, perché l'obiettivo è quello che si crea un po' una simbiosi tra il bambino e il suo strumento, diciamo così, di correzione visiva. Sono qui con me per parlare di questo incontro, intanto mi presento, io sono Giovanni Amerio e faccio il medico oculista. Abbiamo con noi Flavia Piebrani, anche il medico oculista, Cinzia Bennici, optometrista e Matti Di Ronzoni, della OIA, che ringraziamo anche per aver partecipato e promosso questo incontro. Dicevo la peculiarità che ha un pochino l'occhiale nell'età pediatrica. L'occhiale in età pediatrica è un qualcosa di diverso da quello dell'adulto, lo vedremo un pochino nel corso di questo incontro, dove chiaramente in un'oretta non si ha la pretesa di toccare tutte le spaccettature di questo argomento, ma dare così degli accenni, degli spunti. Fondamentale e soprattutto, come dicevo, diverso dal discorso poi in età adulta, è che il percorso che deve guidare dalla prescrizione, nella realizzazione dell'occhiale e dal suo uso in età infantile, è un percorso circolare e sinergico, in cui più che forse in altri campi si deve creare giocoforza, una sinergia tra quelli che sono i vari attori di questo processo. Sappiamo tutti che non è sicuramente l'occasione di parlare delle criticità che esistono da questo punto di vista, ma così partendo dal basso vogliamo gettare qualche piccolo spunto, o qualche piccolo suggerimento in questo ambito. Diciamo che così, c'è un proverbio indiano dagli indiani di America che forse qualcuno di voi conoscerà, che dice, prima di giudicare un uomo cammina per taluna nelle sue scarpe. Ecco, vogliamo fare nel piccolo qualcosa del genere oggi, cioè così in quei 10-15 minuti che sarà la relazione di unione di noi, vedere un pochino il punto di vista dell'altro, riguardo a questo campo per così capire un po' meglio come ci si approccia e come ci si vede in questo ambito nei vari settori. Inizio pertanto con la mia relazione, che ha come tema quella della correzione di difetti refrattivi in età pediatrica, visto dal punto di vista del medico oculista. Diciamo che c'è un grosso aspetto che fa così un pochino di linea di visione tra quella che è la prescrizione di un occhiale in età adulta e quello in età pediatrica. Mentre nell'adulto la finalità di un occhiale è essenzialmente quella di dare una correzione, uno sollievo ai sintomi che il soggetto presenta, diciamo che è quello di vedere male, di vedere essere affaticato, eccetera. Nel bambino a questa si affianca un'altra funzione indispensabile e non da dimenticare, che è una finalità vera e propria terapeutica. Nel bambino abbiamo situazioni come l'ambliopia o uno strabismo che impongono che l'occhiale non sia solo un qualcosa che lo fa vedere meglio, ma un qualcosa che serva a correggere il suo difetto. Quindi un vero e proprio presidio medico-terapeutico, diciamo così. Come determiniamo un difetto refrattivo in età infantile? Anche qui abbiamo delle diversità rispetto a quello che capita nell'adulto. Ancora al giorno d'oggi, molte volte nel campo pediatrico, quello che ci guida, quella che poi è la determinazione del difetto refrattivo del bambino, è la schioscopia. Schioscopia che forse fa tante metodiche e ancora tra virgolette un'arte, la possiamo definire un po' così, ma non deve essere per forza un qualcosa inteso in senso assoluto. A volte la schioscopia basta che ci dia un'indicazione, ci fa già capire se un bambino è mio, per ipermetto, per stigmatico, questo già ci orienta nella prescrizione e ci fa anche e soprattutto evitare dei passi falsi e anche proprio delle cantonate a volte importanti. La schioscopia, come dicevo, non stiamo qui di lungarci, non è questo il momento, il luogo su cui parlare in approfonditamente di questi temi, ma può essere fatta in diverse maniere. Diciamo nei bambini le metodiche principali sono quelle miosi, annebbiandoli binocularmente, in questa maniera riuscendo ad avere una visione praticamente simultanea di difetti visivi nei due occhi, oppure con la ciclopeligiene e l'accommodazione bloccata. Abbiamo poi l'autorifratometria, che anche qui, a differenza dall'adulto, può essere fatta, come nella maggior parte dei casi, nell'adulto, in monoculare, però in questi casi le indicazioni sono più sul discorso astigmatico, i difetti sferici vanno un pochino, un po' più così, presi con le molle se sono fatte in situazioni di miosi e non di cicloplegie. Ma soprattutto nel campito pediatrico, specie nei bambini più piccoli, negli ultimi anni si stanno diffondendo dei nuovi strumenti, che sono i fattometri binoculari, soprattutto rivolte all'ambito pediatrico, come dicevo, che hanno la caratteristica essenziale di permettere la misurazione incontemporanea dei due occhi. E con questo permetterci di cogliere quello che soprattutto interessa di più in ambito pediatrico, che sono soprattutto le differenze fra i due occhi, perché come vedremo una delle principali cause poi di un occhopigo, di un'ambliopia, è quella di una nesometropia, cioè una differenza fra i due occhi. Abbiamo infine i test soggettivi che, a seconda dell'età, possono o non possono essere realizzati. Cosa andiamo a determinare? Logicamente, oltre l'acuità visiva, quando riusciamo a misurarla, misuriamo il difetto refrattivo, queste sono cose che facciamo di prassi anche negli adulti. Nel bambino però si affiancano altre cose che sono fondamentali poi per orientarci nella prescrizione, che sono la motilità oculare, la binocularità e la stenopia presente o meno. Perché nel bambino, come vedremo, non è solo la rifrazione che ci guida a prescrivere un occhiale, ma anche queste cose che gli stanno attorno per graduare e orientarci meglio. Nella prescrizione dovremmo avere poi dei parametri che compilano, se vogliamo, di più ancora la nostra prescrizione, e ce la fanno spostare in un senso o nell'altro, che sono l'età, per cui dovremmo tenere conto di un'impermetrofia fisiologica nella fase di accrescimento che è presente, che poi si riduce man mano con l'età. Avremo un discorso anche di entità della correzione, che è diversa rispetto all'adulto. Un bambino a volte necessita di una correzione piena proprio per i motivi terapeutici che dicevamo, e molte volte rispetto all'adulto il bambino accetta anche molto più facilmente delle correzioni piene. Purtroppo c'è anche da dire come accetta le correzioni piene giuste, accetta anche le correzioni piene sbagliate, ma questo è un altro discorso, mi bisogna fare neanche attenzione. Binocularità è fondamentale anche nel discorso della penalizzazione, perché se vogliamo la penalizzazione con filtri, con occlusione, eccetera, è sempre una medicina, come le medicine, ha sempre degli effetti collaterali, quindi in certi casi ci spezza la binocularità, quindi se c'è, anche qui ci orienta o meno nel prescrivere determinate forme di penalizzazione. dobbiamo fare molta attenzione all'anisometropia, come dicevamo, è una delle principali cause di ambliopie, oltre a forie etropie che ci guidano l'ipo-ipercorrezione di un difetto visivo e dell'astenopia, l'astenopia che non sempre dipende solo dagli occhi, ma può anche dipendere da altri fattori medici di cui dobbiamo tenerne conto. Brevamente, andando a parlare di vari difetti refrattivi, l'amiopia forse è quella che ci preoccupa, tra virgolette, un po' meno, anche se forse è la più frequente e la più visibile, perché difficilmente dà luogo a un discorso di ambliopia, tranne a determinati casi. Ricordiamo che in età prescolare il bambino, il mondo, è più a distanza di braccio, a distanza visiva, non lontano, ma sul vicino, quindi non è necessario eccedere in una correzione, cosa che invece va poi fatta solitamente piena in trascolare, perché il bambino poi deve vedere oggetti anche più distanti da lui ed avere una visione buona anche per facilitare l'apprendimento scolastico. Controlli in l'amiopia a seconda dell'età poi devono essere più o meno relativamente frequenti, tenendo conto che c'è un periodo in cui chiaramente l'amiopia varia anche velocemente. L'ipermetropia anche qui possiamo distinguere tra prescolare e scolare, in età prescolare abbiamo, come dicevo già prima, un'ipermetropia fisiologica di cui dobbiamo tenere conto e dobbiamo in questa fase valutare soprattutto un discorso di affaticamento visivo o di stabismo convergente che impone in questi casi una correzione piena che anche in età scolare va data una correzione piena se c'è un'esodiviazione oppure disturbi di affaticamento visivo mentre in casi non ci erano questi problemi possiamo anche valutare una sottocorrezione più o meno più o meno leggera. Sottocorrezione che a volte nell'ipermetropia si fa tenendo conto che vivendo in un mondo reale dove non sempre il bambino tiene sempre gli occhiali se noi diamo una correzione piena di un'ipermetropia e il bambino non tiene sempre gli occhiali appena si mette gli occhiali non ci vede bene finisce che poi gli occhiali non li mette mai quindi anche lì bisogna un pochino giocare a seconda di quello che poi la compliance dell'utilizzo dell'occhiale su una correzione più o meno forte dell'ipermetropia. Abbiamo poi l'astigmatismo che è una situazione in cui insieme all'anisometropia è più facile avere come risultato poi un occhio pigo un'ambliopia e quindi dobbiamo farci maggiormente attenzione se non correggiamo astigmatismi lievi interprascolare genere nell'età scolare una correzione piena e abbastanza importante dobbiamo fare attenzione se all'astigmatismo si associano difetti rifattivi sferici logicamente e fare attenzione soprattutto ai lievi astigmatismi specialmente contro regola che sono quelli che rendono poi più difficoltà nella visione e nella lettura perché sapete meglio di me che la scrittura è orientata probabilmente in senso verticale come sono fatte formulate le lettere per cui un astigmatismo contro regola crea più difficoltà visive rispetto a un astigmatismo secondo nella lettura e nella scrittura terminiamo la rapida carrellata sui difetti rifattivi con l'anesometropia che chiaramente questa è molto ambliopiogena e ci dà un rischio sulla binocolorità quindi questa va corretta sicuramente in età precoce va corretta bene facendo attenzione soprattutto all'anesometropia astigmatica per concludere quindi chiaramente come detto prima non possiamo certamente essere in dieci minuti ma rimane il discorso che l'occhiale nel bambino è un elemento che deriva da tanti fattori che vanno messi insieme un pochino formulati sicuramente in base all'esperienza in base un pochino a quello che è il vissuto di ognuno di noi premesse comunque per una buona rifrazione in età pediatrica che ci sia una certa empatia tra il bambino e chi lo esamina un ambiente tranquillo e anche una certa rapidità perché il bambino ha un'attenzione che poi non dura tantissimo quindi in grado di fare le cose bene in tempi non troppo dilatati ricordando sempre che la prescrizione è in questo caso soprattutto più un'arte che una scienza e non sempre la si impara a scuola grazie adesso passo la parola a Flavia Fabiani che ci parla dell'occhiale l'intercontatto in età pediatrica come strumento terapeutico e riabilitativo buongiorno a tutti possiamo partire caricando allora intanto io ringrazio per questo invito perché sono particolarmente sensibile a queste tematiche vivendo il mondo pediatrico e devo dire che quando parliamo di occhiali e di lenti a contatto in età pediatrica chiaramente le nuove tecnologie i modelli innovativi i materiali di ultima generazione i nuovi approcci tecnico-scientifici ci riguardano in modo più stretto noi oculisti siamo più coinvolti perché tutto ciò può rispondere meglio le esigenze dei nostri bambini inoltre proprio queste nuove tecnologie danno un grosso aiuto alla clinica non solo in campo riabilitativo ma soprattutto terapeutico ma vediamo un po' l'occhiale in età pediatrica è veramente uno strumento così importante e non così ovvio la storia ci insegna la necessità pensiamo Seneca quando insegnava ai suoi ragazzi ai suoi allievi faceva utilizzare uno specchio concavo che portava appunto un ingrandimento soprattutto da lontano così pure utilizzava una superficie di vetro sfaccettata che aveva un'azione prismatica anche perché lui soffriva anche di fenomeni diplopici Nerone Nerone quando assisteva ai giochi utilizzava una lente di smeraldo tagliata che dava un'azione riposante filtrante quindi già pensiamo che nella storia già c'erano le condizioni per l'importanza della lente e la realtà oggi ridisegna questo quadro dal quattro occhi del cinquecento in cui gli occhiali presentavano le doppie stanghette o dei vetri molto pesanti da cui punto il nome di quattro occhi oggi si parla di occhiale che deve correggere e vestire quindi sicurezza senza superfici taglienti o angoli appuntiti comfort fitting quindi leggero stabile resistente flessibile e anche l'estetica anche l'occhio vuole la sua parte perché l'occhiale nel bambino non deve essere uno strumento punitivo quindi l'occhiale in età pediatrica dalla presa in carico alla prescrizione richiede diversi step ha già parlato il collega Amerio dell'importanza di una valutazione che deve essere fatta in reflazione cicloplegica con la schiascopia con l'autorefrattometria nel caso di bambini in età neonatale post chirurgici anche un'eventuale narcosi una sedazione perché la correzione è fondamentale per dargli la qualità di vista i tempi che richiedono una precocità diagnostica e quindi correttiva perché si è visto che una correzione ottimale può incidere sullo sviluppo psicomotorio cognitivo comportamentale del bambino quante volte nel nostro studio entra un bambino molto timido con gli occhi abbassati che comunica poco e poi si scopre che ha una forte miopia e con gli occhiali cambia la sua qualità di vista e quindi la sua qualità di vita le indicazioni sono naturalmente la miopia l'ipermetropia medio elevata l'astigmatismo in presenza di ambliopie e di strabismo con le varie tipologie di occhiali importante è la gestione la gestione che coinvolge il bambino la famiglia ma anche la scuola perché è molto importante che anche nel periodo scolastico nell'attività scolastica il bambino abbia la correzione adeguata e questo sia mantenuto per tutte le ore della giornata e l'importanza appunto del follow up pensiamo agli strabismi soprattutto quelli accomodativi che richiedono l'utilizzo di lenti a permanenza per molti anni fino a che non si è avuto lo sviluppo visivo oggi poi quando noi dobbiamo affrontare il problema della lente a contatto in età pediatrica ci troviamo spesso a un'inversione di tendenza perché un tempo l'applicazione delle lenti a contatto veniva attuata in bambini chirurgicamente afachici erano minori le opzioni tecniche ma oggi conosciamo di più la fisiopatologia del fin lacrimale le tecnologie sono più avanzate nella biocompatibilità c'è una maggiore coscienza sanitaria e soprattutto ci sono molte attività di depistage molto precoce se pensiamo per esempio alla campagna Lions che stiamo facendo in tutta Italia e Amerio me lo può confermare anche per il Sci4Kids cioè per la precocità nelle indagini diagnostiche dei bambini quindi la lente a contatto in età pediatrica richiede un'attitudine dei genitori e anche una maturità quando è possibile del bambino un bambino di 7 anni oggi è in grado di gestirsi la lente sia per quanto riguarda l'applicazione anche la manutenzione quindi i nostri obiettivi sono comfort semplicità di uso il miglioramento di un rapporto viso-spaziale un impatto zero sulla cornea e soprattutto tenendo conto dei tempi il percorso va da una valutazione di base del fin lacrimale la considerazione dei parametri corneali il potere della lente a contatto e le indicazioni indicazioni terapeutiche nelle anomalie refrattive come le elevate ametropie anisometropie la miopia infantile elevata e nel campo dell'ipovisione come nell'albinismo e nella niridia riabilitativa nell'ambliopia anisometropica nella facchia infantile nell'esotropia accomodativa e con eccesso di convergenza soprattutto nella forma ipoaccomodativa e nel nistagmo nel caso di una miopia infantile elevata che generalmente è familiare può essere legata a prematurità o anche a sindromi noi troviamo diverse varianti una stabilità la possibilità di progressione e in alcuni casi anche regressione in età pediatrica quindi l'importanza di una correzione adeguata con lenti a contatto non solo facilita la prevenzione dell'ambliopia ma dà una qualità ottica delle immagini proprio perché lo sviluppo visivo si evidenzia nei primi anni secondo le esperienze di Jubel e Wiesel il risultato è migliore nell'attenzione e si ha una riduzione anche della sintomatologia del mal di testa della sensazione di svogliatezza dei bambini l'estetica importante sulla progressione miopica naturalmente abbiamo ancora dei dati non tutti concordanti le tipologie richiedono innanzitutto una lente a contatto con correzione completa per la metropia sferica e un inizio precoce con le diverse tipologie di lenti nell'ambliopia da anisomiopia elevata occorre equilibrare la qualità delle immagini ridurre l'aniseoconia e ridurre l'aberrazione è piuttosto rara però siamo presenti ad un'ambliopia profonda e quindi correggere l'amiopia elevata è possibile e anche occludere per esempio l'occhio migliore nella facchia chirurgica infantile l'obiettivo è quello di correggere l'ipermetropia eliminare l'anisometropia soprattutto nelle monolaterali ridurre le distorsioni e le aberrazioni e correggere il residuo refrattivo se si ha un impianto ultimamente gli impianti intraoculari sono aumentati però esistono ancora casi in cui si rende il bambino affachico quindi il nostro obiettivo è quello di migliorare l'acutezza visiva la qualità di visione con una riduzione dell'ingrandimento e rimposcelemento dell'immagine una migliore visione periferica una riduzione dell'effetto prismatico e soprattutto un'autopercezione del proprio aspetto estetico col miglioramento dell'integrazione sociale abbiamo naturalmente dei parametri corneali con delle tabelle che ci aiutano per quanto riguarda la topografia corneale e naturalmente la refrazione è importante la metodica applicativa che è diversa dall'adulto occorre prendere fra il pollice e l'indice la palpebra superiore e sollevarla verso l'alto si tiene abbassata la palpebra inferiore con il dito medio della mano che tiene la lente per estrarla divaricare le palpebre e stringere la lente tra indice e pollice dobbiamo tenere presente una correzione sia in presenza di affachia chirurgica senza impianto di ol o nel caso di una pseudofachia il follow up è importante innanzitutto i controlli preventivi perché spesso si vengono a delineare dei depositi in superficie ed è difficile una valutazione della sintomatologia nel bambino è importante il training familiari perché le possibili complicanze vanno dalla sofferenza corneale alla perdita frequente alla rottura della lente con abrasioni corneali nell'albinismo e nella niridia è importante tenere presente che una lente a contatto può alleviare i disturbi visivi proteggere la retina dall'abbagliamento ridurre il nistagmo e la fotofobia migliorare la qualità di visione quindi concludendo i nuovi materiali e le nuove geometrie stanno allargando la possibilità di impiego abbiamo un netto miglioramento della prestazione della qualità visiva per qualità visiva intendo la profondità il contrasto l'accomodazione la visione periferica è indispensabile la collaborazione tra oftalmologo genitori e contattologo proprio per il benessere visivo del nostro bambino vi ringrazio ringrazio la dottoressa Fabiani per questa esaustiva anche se breve relazione adesso passerei la parola a Cinzia Bennici dicevamo prima che si deve creare una simbiosi tra il bambino e l'occhiale che porta proprio per le finalità che abbiamo detto sinanzi ebbene Cinzia Bennici parlerà un pochino di questo aspetto buongiorno a tutti io mi chiamo Cinzia Bennici sono un ottico optometrista e sono come direbbe un bambino strafelice di essere qua dunque parliamo di simbiosi io oggi ho portato questa sapete cos'è? questa è la sciarpetta che mi ha regalato mia nonna più di 40 anni fa e dalla quale io non mi stacco mai e non voglio staccarmi mai fino alla fine dei miei giorni perché non solo mi ripara dal freddo ma mi rassicura mi rende felice e sono le stesse identiche sensazioni che io vorrei provasse un bambino quando porta un occhiale da vista o una lente a contatto essere felice buffa e felice mi ha detto una bambina al suo primo occhiale ma come siamo arrivati a questa espressione creando la simbiosi ecco come vedo io la simbiosi una triade comunicativa tra genitore optometrista che convergono tutti sul bambino sulle esigenze del bambino il principino e la principessa di casa all'interno di questa triade comunicativa io identifico tutto ciò che è per il bene visivo del bambino quando un genitore mi porge la ricetta oculistica del suo bambino mi apre le porte della sua emotività delle ansie delle paure nel confronto del suo piccolo o della sua piccola che deve mettere l'occhiale e la lente a contatto quindi la prima cosa che io faccio è ascoltare try walking in my shoes cantano i Depeche molt mettiti nei miei panni e mi capirai quindi io non sminuisco lo stato d'animo dei genitori ma al tempo stesso con la rassicurazione rendo il più possibile accettabile e amabile e sottolino amabile la lente a contatto o l'occhiale per il loro bambino come? parlando solo degli effetti positivi esaltando negli effetti positivi che miglioreranno il benessere visivo e non solo ma anche la qualità di vita del loro bambino ma nel frattempo che parlo con i genitori non dimentichiamoci che c'è un bambino che scalpita che non riesce a stare fermo che vuole andare a casa che vuole giocare che ha mille altre cose a cui pensare e allora cosa facciamo? lo facciamo giocare lo coinvolgiamo in un gioco in un gioco in cui lui è il protagonista con il suo gusto estetico con la sua personalità e tutto quello che ci vuole dire come lo coinvolgo in un gioco? mentre parlo delle lenti oftalmiche con i suoi genitori do a lui in mano una lente oftalmica campione per sperimentare cos'è l'infrangibile cosa sono i trattamenti come diventa scura una lente fotocromatica quando parlo di lenti a contatto geometrie materiali e protocollo applicativo con i loro genitori allo stesso tempo do in mano una lente a contatto di prova al bambino perché possa prendere confidenza la lente a contatto deve diventare amica sua non è un'estranea deve diventare parte di sé come per me la sciarpa per quanto concerne materiale la montatura qui il discorso è un pochettino dal mio punto di vista più complesso è un gioco di equilibri tra quello che vogliono esteticamente i genitori ed il bambino e la funzionalità dell'occhiale è importantissimo per me spiegare subito e qui io permettetemi gioco facile devo spiegare subito al genitore che quando si guarda il mondo dal basso verso l'alto la montatura il frontale deve essere sempre ben centrato perché se la montatura scende e su questo perdonatemi sono molto categorica con i genitori il bambino avrà la linea di sguardo non idonea vedrà male non avrà benessere visivo ma non lo dirà perché gli hanno detto che è giusto così non ve lo dirà perché per mamma e papà è giusto così e invece no su questo dobbiamo insistere montatura sempre ben centrata e grandezza della montatura idonea al viso del bambino visione HD sì ma 99 pollici anche no dico sempre per quanto concerne i materiali sempre leggeri analergici atossici sui colori si possono sbizzarrire ma le forme predilette quando il bambino diventa un pochino più grandicello sono il pantos e l'ovalino che rimangono ben centrati la montatura in cellulode è preferibile la montatura in metallo anche per praticità in modo tale che il bambino giocando non rischi di farsi male quando consegno occhiale e lente a contatto definitiva dico una semplice frase che ci si addice benissimo dal mio punto di vista non perdiamoci di vista io ci tengo a voi ma ci tengo veramente anche perché come diceva mi diceva prima il dottor Amerio l'oculista mi correga se sbaglia vede il bambino una volta all'anno giusto dottore? Molte volte si diciamo l'obiettivo magari non sarebbe quello a volte ma per mille motivi non stiamo qui a discutere quindi chi vediamo di più il bambino noi e ci dobbiamo dobbiamo trasmettere che abbiamo voglia di rivederli ma non solo perché l'occhiale è storto o l'astina è smollata come dicono i bambini ma anche per sapere se è felice se i genitori sono soddisfatti per quanto concerne invece la lente a contatto io consegno ai genitori un programma scritto in cui ci sono le date dei controlli e per favore raccomando ai genitori di venire perché prevenire è meglio che curare in tutto questo il bambino non lo perdo mai di vista e gli dico vieni a trovarmi al più presto perché trovi una sorpresa e state tranquilli che i bambini iniziano a martellare i genitori perché vogliono la sorpresa concludo avvallando un concetto che spiegherà la dottoressa Ronzoni piccolo non è sinonimo di meno e se ve lo dico io mi dovete credere grazie a tutti grazie adesso abbiamo parlato quindi un pochino dei problemi visivi in età pediatrica anche dei casi chiaramente più particolari non quelli più comuni abbiamo parlato del rapporto tra il bambino e la sua correzione visiva adesso vediamo in concreto come è fatta quali caratteristiche deve avere questa correzione visiva per cui passo la parola a Martiglia Ronzoni grazie buongiorno a tutti innanzitutto mi presento molto velocemente sono Martiglia Ronzoni optometrista e l'ensexpert per OIA quindi motivo per cui oggi sono qui con voi proprio per andare un po' più nel pratico e concreto relativamente alla soluzione visiva quindi abbiamo parlato di difetti visivi come correggerli in modo tempestivo gli esami opportuni da fare quindi controlli importanti sicuramente con il medico oculista l'importanza della relazione del mantenimento di una relazione con il genitore con il bambino parliamo però adesso anche dell'importanza della soluzione OIA vedo molti studenti tra di voi quindi giusto per darvi una panoramica OIA è un'azienda produttrice di lenti oftalmiche quindi si parla di lenti per occhiali non di lenti a contatto ad ogni modo come anticipato anche dai colleghi in realtà le soluzioni per un bambino sono molteplici a volte la lente a contatto a volte la lente oftalmica questo ovviamente dipende da tanti fattori quindi a volte è meglio una soluzione piuttosto che un'altra altre volte si equivalgono parliamo quindi di lenti per occhiali per lenti per occhiali in età pediatrica e come già anticipato dai colleghi individuo diciamo due punti importanti il primo è sicuramente l'efficienza visiva quindi per una corretta crescita per uno sviluppo corretto è importante sicuramente effettuare dei regolari esami della vista quindi ci sono sicuramente dei periodi importanti in cui fare dei controlli specifici soprattutto perché nel primo anno di vita le vie sensoriali quindi vista e udito sono quelle che hanno un picco del loro sviluppo quindi è importante che in questo periodo si sviluppino correttamente questo perché la vista come sapete ovviamente è una delle diciamo delle vie sensoriali più importanti ma soprattutto perché un non corretto sviluppo di queste vie sicuramente può andare ad inficiare quella che è la capacità di apprendimento di un bambino o comunque creare delle difficoltà anche nella socializzazione del bambino stesso quindi sicuramente l'efficienza visiva è il primo step una volta valutata l'efficienza visiva però è importante anche dare una soluzione visiva corretta in linea con quello che è stato esaminato quindi io posso decidere che il bambino è mio per metro ha un'ambliopia quindi trovare quella che è la correzione l'approccio più indicato però è importante poi che la soluzione visiva rispecchi le aspettative quindi non sottovalutare l'importanza della qualità della lente che viene offerta lente a contatto lente oftalmica che sia sicuramente è importante scegliere un materiale che sia in linea con l'esigenza ma soprattutto con lo stile di vita del bambino questo perché in età infantile o comunque anche in età scolare il bambino ha sicuramente uno stile di vita che è completamente diverso rispetto a quello di un adulto quindi a maggior ragione è importante dare una lente insieme poi anche ad una scelta opportuna della montatura come già anticipato che sia in linea con lo stile di vita dinamico che ha un bambino quindi sappiamo che i bambini corrono gli piace scatenarsi ma sicuramente sono molto meno attenti a quello che è il rischio della rottura di una montatura quindi dobbiamo andare incontro noi a questa necessità dall'altra parte c'è un aspetto importante la scelta del materiale è fondamentale anche per andare incontro alla maggior vulnerabilità che hanno gli occhi dei bambini perché sicuramente gli occhi dei bambini sono meno sviluppati quindi hanno un sistema diciamo protettivo che non è ancora sviluppato quindi è importante che la soluzione vada incontro anche alla necessità di maggior protezione in particolar modo se vedete da questa immagine si può vedere come cambia l'interazione della luce con l'occhio di un bambino rispetto all'occhio di un adulto l'occhio dell'adulto siccome è più sviluppato è come se creasse di per sé già un meccanismo di protezione che è dato anche dall'invecchiamento delle strutture oculari stesse l'occhio del bambino no infatti se vedete la luce visibile UVA e UVB passa e arriva alla retina in modo diverso rispetto a quello di un adulto in particolar modo se vedete l'UVA che è quella più importante da cui dobbiamo proteggerci maggiormente vedete che nel bambino passa e arriva la retina nell'occhio adulto passa ma in minor quantità quindi arriva in una percentuale minore motivo per cui è importante fin da piccoli anche proteggersi dai raggi UV e poi vedremo non solo si parlerà anche di luce blu scusate ok a tal proposito entro nel dettaglio di un materiale che offre OIA che è PNX o indice 1,53 è un materiale per la costruzione delle lenti allora sapete che le lenti oftalmiche possono essere costruite con diversi materiali quindi si va dall'1,5 1,53 fino ad arrivare all'1,74 ogni materiale ha delle proprie proprietà quindi in termini di protezione di resistenza agli urti di sottigliezza di trasparenza ottica in questo caso si parla di PNX perché PNX per OIA è il materiale in assoluto più resistente agli urti ed è in assoluto la scelta che dovrebbe andare di default nel caso di una correzione per un bambino questo perché perché è un materiale che come vedete ha queste quattro proprietà che sono quelle di sottigliezza e quindi leggerezza perché ovviamente vanno di pari passo di trasparenza ottica di resistenza agli urti e di protezione UV che abbiamo appena visto essere importante in un bambino sottigliezza e leggerezza è sicuramente un parametro fondamentale perché che va di pari passo con la scelta della montatura perché una scelta di una montatura più leggera confortevole col bambino per il bambino deve andare di pari passo con un materiale che sia leggero quindi che non risulti pesante in modo tale che il bambino riesca a tenerlo sul proprio volto in modo più diciamo confortevole senza doverlo continuamente togliere perché non riesce a tollerarlo trasparenza ottica perché ovviamente è importante avere una lente che offra la massima qualità visiva in termini proprio di trasparenza di nitidezza visiva questo va di pari passo anche con la scelta di un trattamento antiriflesso e il trattamento antiriflesso è fondamentale perché consente di ridurre il più possibile i riflessi indotti dalla lente stessa più riduco questi riflessi più aumenta la trasparenza ottica della lente ma anche la trasparenza che ha il bambino di percezione attraverso la lente resistenza agli urti perché abbiamo visto che il bambino ha uno stile di vita dinamico quindi è molto più soggetto a una possibile caduta anche dell'occhiale essesso dal volto del bambino e di conseguenza alla rottura dell'occhiale protezione UV perché abbiamo visto le strutture oculari di un bambino sono sicuramente più vulnerabili rispetto a quelle di un adulto scusate per quanto riguarda la resistenza agli impatti vi faccio giusto vedere la differenza rispetto ad un materiale standard in CR il CR non è altro che l'1,5 che è il materiale standard in assoluto più venduto ma vedremo che il PNX ha delle proprietà in più notevoli rispetto al CR in particolar modo rispetto in merito scusate alla resistenza agli impatti questo è un test che viene fatto come test su tutte le lenti quindi è un test internazionale non relativo ad OIA dove il test prevede di far cadere una pallina da 16 grammi da 127 centimetri quindi da più di un metro per vedere se con questa pallina il materiale si va a rompere o meno come vedete nella prima immagine il materiale PNX dopo aver fatto questo test non presenta nessun segno mentre il materiale CR presenta un graffio non una rottura il test è considerato diciamo quando si supera quando il materiale non si rompe quindi in realtà entrambi i materiali non si rompono ma vedete che CR comunque presenta dei segni sulla lente quindi dei graffi proprio per andare a testare la resistenza di PNX è stato aumentato il peso della sfera d'acciaio che si fa cadere sulla lente facendo un test con 95 grammi e con un chilo quindi un peso notevole vedete che sia con 95 grammi che con un chilo il materiale PNX non si rompe ma presenta un lieve segno sul materiale che è quasi impercettibile mentre il materiale 1,5 standard vedete che si va a rompere in entrambi i casi quindi grazie a questi test si è potuto dire che il materiale PNX è 60 volte più resistente agli urti rispetto a un materiale standard e questo è fondamentale per un bambino altra importanza da questa tabella si fa un confronto tra materiale standard e 1,53 in merito a tutti i parametri che si vanno ad analizzare per un materiale che sono protezione dai raggi UV quindi come vi dicevo il materiale PNX è un materiale che offre 100% di protezione UV dai raggi che provengono dalla superficie frontale quindi vedete che il taglio del materiale arriva fino a 395 nanometri gli UVA per intenderci arrivano fino a 380 quindi la protezione è superiore rispetto a quella che è la definizione di UVA un materiale standard arriva a 330 nanometri come protezione quindi nel caso dell'UVA protegge circa l'87% quindi non ha una protezione totale altra cosa importante è anche la resistenza alla trazione al calore che hanno questi materiali e resistenza ai solventi quindi un'altra proprietà fondamentale è la capacità di resistere ai solventi quindi se anche per sbaglio si utilizza diciamo un solvente di qualsiasi tipo è un materiale che ha una grande proprietà di resistenza anche in questo senso altro concetto importante su cui pontiamo come azienda è quello della doppia protezione dove con doppia protezione si intende protezione dai raggi UV di cui abbiamo parlato e non solo anche di protezione della luce blu perché come diceva prima qualche mio collega durante l'età scolastica sono cambiate tante cose rispetto a qualche anno fa quindi adesso ci sono lavagne elettroniche si utilizzano tablet per studiare quindi si è esposte ad una sorgente di luce artificiale e meno naturale rispetto a qualche anno fa quindi anche sul bambino è importante oltre a scegliere un materiale evoluto come può essere l'1,53 o anche altri indici che come materiale mi danno la protezione UV nel materiale quindi anche se faccio una lente chiara per intenderci io ho il 100% di protezione UV è importante abbinare anche dei trattamenti contro la luce blu quindi dei materiali scusate dei trattamenti che per riflessione mi riducono anche la luce blu e quindi mi danno un maggior comfort visivo offrendo quindi una doppia protezione UV e luce blu concludo con una campagna OIA relativa a tutti i partner OIA Center che hanno questo programma annuale quindi questo è già un punto importante perché non è un programma relativo solo a qualche mese quindi ad esempio durante la fase di rientro a scuola ma è un programma che viene offerto per tutto l'anno che consente di andare a tranquillizzare a volte anche il genitore nella proposta o comunque nell'acquisto di lenti un po' più evolute perché di solito magari il genitore è preoccupato sul ricambio frequente quindi si tende magari a stare su una soluzione un po' più standardizzata perché tendenzialmente il bambino nell'anno o per un rischio di rottura o per cambio poteri dovrà cambiare l'occhiale questo programma è proprio finalizzato in questo senso ovvero offrire un occhiale di ricambio immediato nel momento dell'acquisto in modo gratuito con una lente arde in 1,5 per avere una sorta di occhiale di scorta o comunque occhiale che il bambino utilizza nei momenti più diciamo di svago oppure la possibilità entro i 15 mesi quindi in realtà più di un anno di ritornare per favorire il cambio poteri con l'acquisto di un occhiale che comunque ha un prezzo particolare uno sconto particolare con la possibilità ovviamente di dare un materiale che sia protettivo dei raggi UV e di abbinare un trattamento antiriflesso che sia o protettivo dei raggi UV anche sulla superficie interna e non solo su quella esterna o per la luce blu quindi abbinare il concetto di ricambio frequente di dare maggior sicurezza al genitore anche nel ricambio durante l'anno però offrendo comunque un prodotto che sia evoluto che vada incontro a tutte le esigenze in termini di resistenza e di protezione UV e della luce blu vi ringrazio intanto bene ringraziamo anche Marti di Razzone anche per questa interessante sua esposizione quindi abbiamo visto come in definitiva l'occhiale in etapa idratica sia un piccolo occhiale ma abbia attorno a sé delle grandi problematiche e richieda soprattutto un approccio un pochino diverso da quello che viene fatto nell'occhiale di un adulto dove effettivamente è auspicabile e ci si augura che ci sia sempre più una maggiore collaborazione tra le varie figure che entrano in gioco in questo ambito diciamo proprio perché è importante che l'occhiale sia prescritto bene con le giuste indicazioni ma è altranto essenziale che il bambino lo porti porti un occhiale che gradisca e col quale si crei un suo affiatamento è un occhiale che ha delle caratteristiche particolari che permettano a questo strumento di svolgere appieno la sua funzione abbiamo ancora qualche minuto di tempo lasciamo spazio a qualche domanda se c'è qualcuno di voi che ha qualche interrogativo da porre ai relatori ma in attesa di avere magari qualche domanda dalla platea volevo chiedere a Cinzia Bennici due cose allora la prima quali sono i momenti soprattutto importanti nella presa in carico della scelta dell'occhiale o eventualmente dell'approccio alla lente a contatto quindi le difficoltà nella comunicazione con i genitori e la famiglia e l'altro aspetto che mi piaceva sottolineare è che oggi i bambini hanno uno stile di vita diverso da anni fa molti di questi fanno dello sport e quindi volevo chiedere che cosa eventualmente dalla sua esperienza di optometrista poteva indicarci in questo settore in merito alla prima domanda come ho accennato nella mia presentazione mi ha chiesto quali difficoltà io incontro nella comunicazione con i genitori le difficoltà più che altro sono le paure le paure dei genitori perché il bambino fondamentalmente se vede il genitore che si rilassa e lo affida il bambino è molto collaborativo io lo trovo molto collaborativo il bambino se vede il genitore a sua volta collaborativo le paure dei genitori quali sono per quanto concerne la lente a contatto più che altro nella manipolazione su come tenere la lente ma quello glielo spiego molto bene glielo dico io quando inizio un itero applicativo spiego veramente molto molto bene il primo appuntamento che abbiamo è per conoscerci solo ed esclusivamente per conoscerci perché voglio che i genitori con me sviscerino tutte le loro complessità tutto ciò che a loro non è chiaro perché se lo facciamo prima e io riesco a darle o cerchiamo insieme le risposte esaustive l'applicazione va a gonfie vele ma se durante il percorso applicativo ci sono cose che a loro non convincono l'applicazione viene rallentata o comunque anche il bambino è meno propositivo quindi prima di tutto rassicurare i genitori che stiamo lavorando per il benessere visivo del bambino la manipolazione il fatto che il bambino anche possa perdere la lente con facilità altro cosa potrei dire un'altra paura del genitore oddio se se gioca cade perde la lente a contatto ecco queste sono le domande tipiche su cui mi sento di rassicurare spiegando appunto che ci sarà tutto l'iterraneo applicativo io li seguirò passo passo darò a loro anche il mio numero di cellulare in modo tale che possano contattarmi in qualsiasi momento loro abbiano bisogno per quanto riguarda invece i bambini che oggi è vero hanno una vita molto molto dinamica sono bellissimi sono vivaci bellissimi ci sono diverse soluzioni c'è proprio l'occhiale da sport c'è l'occhiale sportivo ci sono le montature sportive per chi non può o la mamma non è predisposta a far mettere la bambina al bimbo o la bambina la lente a contatto esistono gli occhiali sportivi nati apposta per avvolgere il viso del bambino proteggerlo e far sì che durante il movimento non si spostino non cadino e poi come ha detto la collega Ronzoni ci sono anche le lenti infrangibile col trattamento indurente con vari tipi di trattamento in modo tale da rendere l'occhiale il più leggero possibile e anche il più pratico e funzionale come ho detto prima ti ringrazio tutti timidi no adesso partiremo un attimino le somme in attesa sempre l'esperienza che è un'ultima domanda secondo me ecco importante parlare giustamente di triata comunicativa ma ampliamo questa triata secondo me è importante anche parlarsi poi tra figure professionali perché secondo me dimenticando un pochino quello che succede più nell'ambito generale ma guardando una realtà più territoriale è importante che tra chi lavora nello stesso territorio si creino dei canali di comunicazione perché soprattutto nella prescrizione nell'uso di un occhiale pediatrico è importante che l'oculista magari comunichi all'ottico all'autometrista magari i motivi di perché ha fatto una determinata prescrizione che magari a volte può sembrare astruosa magari vengono date delle lenti apparentemente strane un po' incomprensibili come al tempo stesso che ci sia un feedback all'inverso dove ci sono dei dubbi perché per carità nessuno di noi è infallibile però vengono espressi prima al medico che al genitore perché come dicevo la cosa peggiore è creare le incertezze nei genitori perché a quel punto non capiscono niente vanno in palla e chi ne fa le spese poi è il bambino quindi secondo me è importante che di fronte ai genitori si abbia una condotta il più possibile omogenea e coerente proprio perché ricordiamoci che al di là di tutto nel bambino abbiamo molte volte una finalità di cura e quindi dobbiamo mettere secondo me tutti quanti come prima figura e prima luogo di importanza quello della correzione del bambino non è facile perché per carità al giorno d'oggi per mille motivi ma non solo nel nostro ambito in tutti gli ambiti parlarsi è sempre più difficile ma secondo me partendo dal piccolo è un passo un qualcosa che dobbiamo cercare tutti quanti di realizzare soprattutto in questo ambito c'è una domanda microfono 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 abbiamo una valletta una valletta un po' così una domanda da mamma a che età potrebbe essere utile fare la prima visita oculistica in realtà posso dire da zero anni non è che ci sia un'età per la prima visita oculistica in realtà la prima visita oculistica andrebbe già fatta alla nascita per diversi motivi però diciamo solitamente se non ci sono problemi particolarmente evidenti diciamo che già dai due ai tre anni si può già fare un primo contorno a prima visita è chiaro che lo ammetto candidamente magari non tutti gli oculisti sono attrezzati e hanno un'esperienza in questo ambito perché comunque ci vuole una certa capacità di approccio anche delle certe dotazioni strumentali a volte per questo però diciamo che chiaramente prima troviamo dei problemi meglio è diciamo come norma di massima verso i tre tre anni e mezzo quattro diciamo la prima visita come viene a farla perché l'età in cui forse c'è il maggior rapporto tra possibilità di cogliere e capire dei difetti e anche intervenire vorrei aggiungere che a proposito di questa domanda che comunque il pediatra deve seguire dei bilanci di salute e deve tenere conto dell'anamnesi familiare perché se c'è in casa ci sono delle patologie importanti i genitori ambedue sono miopi dobbiamo considerare che il bambino potrebbe addirittura avere un 60% di possibilità di diventare miope quindi va segnalato questo al pediatra e il pediatra in base ai suoi test e ai suoi bilanci di salute deve indirizzare all'oculista competente in campo pediatrico il proprio bambino secondo me c'è poi una cosa da aggiungere che è importante quello che si diceva un po' accennando anche già prima forse come alculisti non riusciamo a seguire e vedere i bambini come vorremmo un po' per colpa nostra un po' per mille altri motivi per cui effettivamente un ruolo importante ce l'ha chi lavora poi tutto sommato sul territorio e ha questa continuità contiguità maggiore nei confronti dei pazienti e delle famiglie se si crea un clima di fiducia anche per questo è importante secondo me anche l'ottico a meno remore è consigliare una visita oculistica e suggerire alle famiglie un controllo oculistico fatto in età precoce quindi c'è anche un ruolo tra riguardi di sorveglianza sanitaria che insomma è fondamentale che potete svolgere in questo senso direi che se non ci sono altre domande così abbiamo gettato un piccolo sassolino nello stagno speriamo che possa essere d'aiuto nell'attività quotidiana di unione ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti